Un incidente, aiuto aiuto, budget illimitati, passano tre giorni, non ce ne ricordiamo più e non cambia nulla, è questo che mi preoccupa. Io sono Raul Chiesa, al di là dei cappelli aziendali, ho fatto due conti tra un po' 50 anni e oltre 30 anni che mi occupo di security, quando non si chiamava cyber security. Non amo tutti i termini che incominciano con cyber, ho visto i cyber chef, ho visto delle cose ridicole, io mi occupo di infosec in inglese, information security o nel santo italiano la sicurezza dell'informazione e dei dati, perché è di questo che stiamo parlando. Il sum up vorrei non tediarvi e matchare le ottime palle che hanno alzato, io le schiaccio, i precedenti relatori, con un po' di aneddoti di cose reali. È vero che è un evento pubblico, un po' di facce le vedo, altre no, e noi che dalla pandemia in poi abbiamo iniziato a insegnare da remoto, fare interventi a remoti, non è bello non vedere a tutti che stai parlando, ma per me CSI è un ambiente trusted, e quindi anche io dirò delle cose che non sono pubbliche o semi pubbliche, ma ci tengo a un'assomma iniziale, sono le persone che fanno la differenza in tutto. Io ho visto accordi fatti o cose velocizzate e messe in pista perché c'erano due persone che si fidavano in due parties dove c'era tanta burocrazia e lì se non ci sono le persone che fanno non si va avanti. Dicevo che non ho slide, sono abituato a scrivere a mano perché non uso le tecnologie digitali, perché non mi fido, per questione di security ho un foglio qua con tutti un po' di appunti. Cominciamo dall'inizio, quindi l'intervento di Anci, ho segnato un po' di appunto di keyword. Le keyword sono intanto che è stato il primo relatore a parlare di statistiche e numeri, siamo pieni di rapporti sulla security, in genere li fanno i vendor, allora è ovvio che sono di parte, li fanno le associazioni, io stimo tantissimo perché non li posso leggere tutti, il World Economic Forum, Enisa, gli americani perché tutto è partito da lì e mi limito a quei tre, e poi è ovvio che mi studio anche quegli altri, ma perché vi dico così, ho visto ahimè nel corso della mia carriera i famosi numeri, i dati e statistiche completamente inventati, in quanti sono i rapporti che sono anni che ci dicono è il peggiore anno della cyber security e sarà sempre così, non migliorerà, ahimè mai, spero che succeda ma è difficile, la vedo. Mi ha stupito, quello che mi preoccupa di più di tutte queste statistiche, torte e numerini, lo sapete qual è, quando leggo fonte dell'attacco sconosciuta o tipologia di attacco unknown, quello a me fa i brividi, ma ci arriviamo piano piano. Parliamo di attacchi cyber security, hanno citato la guerra, i DDoS, c'era qualche giorno fa una mia lunga intervista al Corriere, dove ho spiegato che un DDoS, me lo fa un ragazzino, il DDoS è chi ha il cannone più lungo, chi intasa il tubo prima, ma uscì già 15 anni fa il tullino di Anonymous che lo facevi anche dallo smartphone. Quello che mi preoccupa è che i media, i generalisti o chi non parla con precisione della cyber security usa il termine attacco, così come si usa il termine hacker, quelli sono criminali e crimine organizzato, togliamoci dalla testa lo stereotipo del ragazzino 15enne con la felpa, perché se guardiamo c'è sempre questo tipo con la felpa e io ho un caro amico al GAR, alla certa del GAR che dice ma Raul se uno attacca con la felpa di notte i server scaldano e scoppia di caldo e non vede niente, togliamoci questi cliché per favore, è crimine organizzato e di questo ne parleremo, ma attacco, un conto è un attacco di DDoS, un conto è un web defensement, un conto è se mi esfiltrano anche, mi esfiltrano tutto con tecniche, con zero day eccetera, per cui è ora di iniziare a essere un po' più precisi, amerei che anche nelle statistiche e nei rapporti ci siano le differenze. Ho sentito parlare di intelligenza artificiale e machine learning, ci credo ma vi prego di capire e credetemi, con il contrasto al cybercam c'entra assai poco, vi faccio un esempio, parlo di cyber intelligence, oggi il futuro per contrastare al cyber intelligence, cos'è in due parole, applichiamo il concetto di intelligence che è informazione, al cyber, cioè andiamo nei peggiori bar di Caracas sul dark web a vedere quello che questi hanno già rubato, già postato, perché una cosa che non è cambiata in 30 anni è questa mania del nemico di apparire, poi c'è tutta l'analisi da fare su range di età, è ovvio con 15 anni, così come mi fanno quando c'è stato Capodanno a Milano, il branco che stupora le donne, perché sono in tanti, uguale nel cyber, per sé, sono in tanti sul canale Telegram o sul gruppo, allora si autoesalta una vicenda, ed è lì che mi fanno l'errore e la voglia di apparire e allora insieme agli amici della postale e di tutto il law enforcement italiano-estero abbiamo più possibilità di andarli a beccare. Dati della sanità, il supply chain era sempre stato uno degli ottimi del collega console, i dati della sanità, se non vi è chiaro il perché c'è stato un escalation, è perché il cyber chain va dove il limone mi dà più succo a spremere, cioè dove c'è il low hanging fruit, cioè è più facile rubare e ahimè sappiamo che quando si parla di pubblica amministrazione e soprattutto di strutture sanitarie i concetti della cyber security sono abbastanza indietro, ma soprattutto perché, e questa è la prima cosa, secondo me l'amica Letizia ha chiamato perché dico come stanno le cose, sapete se c'è un furto di dati sanitari e lo fanno per venderli, per far cassa, ma lo sapete chi è che li compra e già mai lo ammetteranno le assicurazioni, sì le assicurazioni comprano dal cyber camp, quindi commettendo reato, un buon esempio di dati, perché se ti devo fare la polizza e tu hai il cancro e non lo sanno, ma all'ospedale lo sanno, ecco perché è scioccante sì, è terribile sì e come funziona il mondo, ma avevamo iniziato a dirlo una decina d'anni fa a lanciare l'allarme, a me ha fatto molto piacere che l'ingegner Colau recentemente ha detto le cose come stanno sulle percentuali della security, dell'APA italiana, il 90% è sbarcato, o dicevamo da 10 o 15 anni, mi fa piacere che inizino a capire, perché in Italia abbiamo la mania che è bello apparire e poi però a polvere sotto il tappeto e sono sempre i dati, mi ha fatto piacere che si è parlato di supply chain, perché sto vedendo che sempre più spesso se l'attaccante non ce la fa attaccare il Forknox, attacca il fornitore di Forknox e il fornitore di Forknox può essere la telco, il provider internet, ma anche l'agenzia delle signore delle pulizie, per cui attenzione supply chain a tutto tondo. Ransomware, ci tengo a evidenziare e sottolineare e poi ne parlerò quando citerò l'esempio di Regione, Lazio e tanti altri, che il modus operandi del ransomware e copio i dati, poi te li wipe e poi te li cifro o esfiltro. Ci sono tecniche di esfiltrazione, che per i tecnici sono molto semplici, tunnel over SSH o over SSL, quante sono le aziende che hanno i loro DS? Hanno tutti gli strumenti del mondo, ma se l'intruder ti è sfiltra in cifrato, tu non lo vedi, a meno che non hai due tecniche al mondo che sono quelle due, perché sono state create da SSH.com, e non faccio pubblicità, ma è l'azienda che ha creato il protocollo SSH, hanno fatto 96 RFC e sapranno qualcosa. Che io sappia quante aziende hanno questa soluzione in Italia? Due. Abbiamo un problema, ma tutte le altre credono che vedranno quando l'attaccante sfiltra, ma in realtà non lo possono vedere. E quella che io chiamo, anzi non me lo attribuisco, un amico che non posso citare, un giorno mi dice che conosce la security MMS, faccio conosco le caramelle, fa appunto fuori sono dure e dentro sono molli, cioè tutti credono che il target è difficile da bucare all'esterno, forse è vero, i bastioni, Fargo, tutta la tecnologia, il ben di Dio che la tecnologia ci permette, ma nel momento in cui entri dentro sulla rete interna ho visto ancora oggi reti piatte, cioè cose che invitano l'attaccante, lo sa, che fa sforzo a iniziare all'esterno, ma non appena la zampe dentro. La zampe dentro può essere oggi, ahimè, in più modi, non è più lo zero day, il Fargo, l'aspetto che non si è peccato, anche se il famoso hacking hacking team successe per un patch non fatto in tempo, ma c'è il fattore umano, le mail di phishing, io so per certo che da un po' di mesi che è iniziato una campagna di attacco dove guardano, per esempio che il CSI ha assunto un ostigista e su LinkedIn, se lo agganciano su LinkedIn, arrivano a agganciarselo su WhatsApp per fare ad oggi chi gestisce e per frodi economiche di basso livello, sono il collega, quella famosa truffa del CEO o etc., applicano a downsize quella tecnica, ma ho paura perché lo so che poi quel cartello criminoso passerà a un altro cartello, un'altra gang che non gli interessano i 500 Euro dei soldini, ma i dati, una cosa che mi preoccupa tantissimo del mondo ransomware, hanno iniziato in maniera così sfacciata a reclutare insider, prendimi le 300 Euro di stipendio, ce l'hai con la tua azienda o il capo, scarica il tullino, facciamo un accordo, il ministero dice questa chiavetta, io robo tutto e poi c'è la provvigione, ma sappiamo bene quanto sono i riscatti che si pagano su un ransomware e non sono il barbicolino, mettiamoci sempre nei panni dell'umano, 1300 Euro, mutuo da pagare, crisi, miei licenziano, questo mi parla di 100K, almeno è probabile che accetta, corro perché ho una valanga di appunti e giustamente l'amico Enzo mi fa, magari delle cose le salto e poi inizio ad essere presbite, quindi non ho gli occhiali da presbite e non vedo più quello che scrivo. Se era parlato di policy etc., lo dico qua tra amici, siete in 300, infine la notizia è pubblica, io anni fa fui chiamato, non troppo anni fa, a Berrut a scrivere il framework nazionale di cyber security, poi ahimè tutto quello che è successo in quel paese dall'esplosione al porto in poi, ma così come anni fa scrissi le linee gui gui da palla insieme agli amici del CRPA, in Italia un altro vizio che abbiamo è che cambia il governo, capiscono che bisogna fare di più sulla cyber e cambiano nomi, io conosco CRPA da quando si chiamava, tutti i nomi che hanno cambiato e poi oggi c'è stata l'unione. secondo me continuiamo forse a fare troppe poltrone, troppe istituzioni che replicano cose che avremmo potuto fare bene già anni fa, io ricordo che il primo CRPA in Italia era prima del 2000, il professor Bruschi a Milano, il DSI di Milano all'università e poi ci riciterò amico Bruschi. Claudio Italiano, io sono contro, sono pareri, ma perché già il cloud in senso ampio a me fa paura sempre come advisor e persona che sa come succedono le cose, ho visto alcuni nomi in lizza per il cloud italiano, uno di quei provider il più sbraccato in Italia ha 22 mila PEC compromesso e non penso che sia la scelta più ideale, ma io spero sempre che le cose cambino, però iniziamo a dire come stanno le cose perché è bello fare figli è facile, esempio a Roma una società dell'APA che fa riscossione ai tributi, ci chiamò per un penetration test, tutto fatto bello il portale, ha speso un milione d'euro, c'era l'autenticazione obbligatoria con speed, abbiamo bypassato l'out speed e fatto full owning in tre giorni, perché? Perché i fornitori non sanno cos'è la programmazione sicura, il core coding, le gare le vincono nella PIA e me spesso gli amici degli amici e chi mi iscrive il bando non dà guidelines e restriction o le danno all'acqua di erosio, ricordo quando uscire nelle linee guida quello che era il CRPA, ora mi sfugge il nome nuovo, sono io che sono cotto, arrivo da aerei, era citato ISO che c'entra assai poco, una 27 mila, uno con quello di cui si parlava, io segnalai e citarono OWASP che non è una metodologia, sono un elenco di best practice e buonsenso e non citarono OSDEMO, SS, TMM che era lo standard da citare in quel caso, che open source è aperto e c'è dal 2000, una community come Isecom, una no profit che scrive uno standard che è 22 anni che il mondo usa in Italia, non lo citiamo, perché è troppo complicato, lo avessimo usato, l'APA impazziva perché OSSTMM è fatto per essere sicuri sul serio, devo saltare delle cose scusate, vado alle conclusioni, mi dispiace non però aver citato perché avevo commenti su Gabriele, ciao Presidente, io sono stato uno dei fondatori del Cruisin 2000, poi ho preso altri percorsi, però è giusto che ci sia un'associazione, io ho visto che sono le community, le associazioni e le persone a fare le differenze, se si vuole sul senso, sul serio cambiare qualcosa. Vado alla bombettina che era piaciuta a Letizia, è stato bellissimo, avete fatto bene a parlare, la gestione di un attacco cyber, incidental response plant e la notifica di un data breach, cos'è che manca nella giornata di oggi? La comunicazione di un incidente cyber, io ho visto i danni incredibili portati da persone, non ho mai capito se l'ho autorizzato o meno quando c'era l'attacco della regione Lazio, ne abbiamo sentita di ogni, i dati ci sono, i dati sono salvi? No, cavolo, i dati ti li hanno copiati perché il modus operandi è quello, io poi non penso che il Dottor Zingaretti sia un esperto di cyber, ha altre competenze, lo avranno mal consigliato e mal supportato. Quando c'è un attacco di DOS, adesso di nuovo una cosa che so che creerà scompiglio, c'è la stessa persona che sta commentando su Eurovision e Rai, Killnet Ucraina, questi si stanno arrabbiando e arriverà, ne sono abbastanza sicuro, una serie di DOS anche alla Rai, cioè stiamo arrivando a un punto per il quale, e sono conto perché sono anche un giornalista, è scritto all'ordine, se scrivi male di un attacco e scrivi contro il nemico hai paura perché poi questi ti fanno male, è terribile, ma la gente dovrebbe capire che molto spesso ho visto attacchi di DOS dove il gol non era il DOS, era di strade, quando è un DOS il team è in panico, il manager fa pressione, la comunicazione o ve la fanno è da gestire e come? Io ti distraggo e intanto ti rubo da dietro, è questo che mi preoccupa. Parlarei ancora ma mi zittisco, mi scuso se sono andato lungo, alla prossima vi racconto magari, sempre come aneddoto, come è nato il GDPR perché ho passato l'ENISA 5 anni al PSG ed è nato non in modo formale ma assolutamente informale davanti a una birra, ma con il direttore di allora Udo Elbrecht, ma lo racconterò, io ho tanti aneddoti da raccontare, alla prossima. Grazie, grazie Mine Raul e ti chiedo scusa, ma abbiamo ancora un intervento, siamo in forte ritardo, il tema è sicuramente molto di interesse, ma io penso che al punto che tu segnalavi che non è stato trattato, forse avremo una risposta dal dottor Caramia, Roberto Caramia responsabile dell'Incident Response Exit Italia dell'ACN, l'Agenzia Cyber Security Nazionale, proprio perché una domanda che volevo fare al dottor Caramia è proprio questa, la gestione di un incidente è sicuramente una cosa non semplice e molte volte c'è il fattore panico, il fattore stress che non aiuta, anzi complica moltissimo. A volte sappiamo cosa fare, perché abbiamo definito dei processi, abbiamo detto delle simulazioni, ma molto spesso ci sono degli aspetti importanti di cose da non fare assolutamente, perché rischiamo magari di compromettere la situazione e renderla ancora più grave. Dottor Caramia, ci aiuti a capire bene come possiamo comportarci, cosa possiamo, dobbiamo fare, ma cosa non dobbiamo assolutamente fare? Grazie ancora della presenza. Innanzitutto grazie a tutti per aver invitato l'Agenzia a questo webinar. questi sono i momenti forse più importanti che servono a costruire quella consapevolezza e farla crescere all'interno di tutto il tessuto nazionale che è uno degli obiettivi principali dell'Agenzia. A grandi linee, rubando veramente pochi minuti perché capisco che siamo in chiusura e non voglio dilungarmi troppo, questi sono i quattro pilastri su cui, a seguito di tutta la revisione normativa che c'è stata e che ha portato fondamentalmente ad una razionalizzazione all'interno dell'ambito della cyber security nazionale, in cui l'Agenzia si occupa di una cosa fondamentale, ovvero della resilienza. Che cosa intendiamo per resilienza? Perché questo è un po' il punto su cui vogliamo andare a parlare. È ormai un dato di fatto che un incidente informatico, prima o poi, può sempre avvenire. Perché? Perché per quanto possiamo difenderci in maniera seria, efficiente e tutto, e mantenendo i più alti standard anche da un punto di vista sia tecnico che formativo, che di tutti gli aspetti che compongono l'ambiente, per gli attaccanti fondamentalmente è solo una questione di tempo, risorse e volontà. Con tempo, risorse e volontà si riesce comunque a colpire qualcuno. Nel tempo, perché per un attaccante, un attaccante nella necessità di individuare un'unica possibilità, con un'unica possibilità di colpire lui riesce, mentre noi dobbiamo proteggere tutto. E quindi un singolo errore ci costa evidentemente un incidente informatico. Chiaramente questo non è un invito a non prepararsi, è un invito a tenere il più alto possibile il livello di attenzione e fare tutte le attività di protezione che si possono mettere in campo, con la consapevolezza che però un incidente informatico può sempre capitare. Potendo sempre capitare, quello che dobbiamo fare, ed è quello di cui si occupa l'agenzia a livello nazionale, è fare in modo che anche durante un incidente informatico che possa rapportare ad eventi di crisi nazionale, il sistema paese possa resistere e continuare a erogare i servizi fondamentali ai propri cittadini. Questo è l'obiettivo principale per cui l'agenzia nasce. All'interno dell'agenzia, che è suddivisa in servizi, non vi racconto come tutto l'organigramma perché altrimenti non finiamo più, vi parlo solo del servizio operazioni. Il servizio operazioni è quello che si occupa fondamentalmente della parte più attiva della difesa, mentre poi ci sono gli altri servizi che si occupano della strategia nazionale, si occupano dei rapporti industriali e di tutte le altre fasi. In particolare all'interno del servizio operazioni abbiamo l'Oxirt Italia che si occupa della fase di incident ending e risposta, una componente che si occupa principalmente di threat intelligence, quindi fondamentalmente fa raccolta informativa in maniera tale da cercare di individuare prima che accadano o comunque di fornire tutti quei dati che servono durante le analisi di un incidente e poi c'è una componente di gestione del rischio e compliance che si occupa soprattutto in fase di formazione, quindi al momento diciamo è in crescita, che si occupa e si occuperà principalmente di andare a valutare i possibili impatti a livello sistemico di un singolo incidente o di una serie di incidenti che potrebbero sembrare non correlati fra loro ma che poi in realtà potrebbero portare ad avere un impatto a livello generale. Faccio un esempio rapidamente, potrebbe sembrare poco interessante che vengano colpite delle piccole aziende che fanno dei lavori estremamente particolari, in realtà la funzionalità di quelle aziende potrebbe andare a pregiudicare il funzionamento di un'infrastruttura critica perché? Perché non arriva il pezzo di ricambio, piuttosto perché da quella piccola azienda siamo andati a colpire l'azienda più grave. Andando direttamente sull'argomento principale, facciamo un rapidissimo escurso su quali sono gli obiettivi dell'incident response. Il primo obiettivo dell'incident response è capire che cosa è successo, perché se noi non riusciamo a determinare le modalità con cui è avvenuto un incidente, quali sono anche gli strumenti che sono stati utilizzati, non riusciamo ad identificare tutto ciò che è stato toccato dall'attaccante o che potrebbe ancora essere utilizzato dall'attaccante per portare avanti le sue attività o quanti in profondità è riuscito a penetrare all'interno dei nostri sistemi e dove magari si è lasciato la possibilità di riaccedere in qualche modo anche a seguito delle nostre attività di risposta o anche se effettivamente l'attaccante è ancora nelle nostre reti perché spesso succede molto spesso negli attacchi ransomware in cui una volta rilasciata la ransom note e cifrati i sistemi possiamo presupporre che l'attaccante a quel punto sia uscito. In realtà non è necessariamente così perché l'obiettivo dell'attaccante è che qualcuno gli paghi un riscatto in quel caso e quindi se può continuare ad avere persistenza nella nostra rete a mantenerci sistemi compromessi seppur noi li andiamo a ripristinare vi assicuro che lo farà e sarà anche efficace nel farlo molto probabilmente se non riusciamo a determinare tutto quello che è successo tra cui anche la timeline dell'incidente. Quando è iniziata l'attività? Perché molto spesso questa è una delle cose più difficili che vi posso dire è veramente molto difficile perché spesso per svariati motivi non si riesce a trovare una profondità temporale in quello che servirebbe per ricostruire tutta la catena dell'attacco. A volte sì altre meno. Comunque sia identificando l'inizio delle attività almeno quelle visibili da un punto di vista del soggetto colpito è fondamentale per andare a capire come quali attività di rimedio andiamo a mettere in campo quindi da che punto possiamo considerare ad esempio i nostri backup sicuri da che punto in poi no. Che fondamentalmente ci consente anche di definire delle strategie di contrasto attivo nel tempo che ci permettono di arrivare al rimedio. Il concetto fondamentale è che prima di iniziare a qualsiasi attività di rimedio abbiamo bisogno di conoscere che cosa è successo. Per questo passando e rispondendo alla domanda che cosa cerchiamo di non fare? Cerchiamo di non correre immediatamente nella fase di ripristino. Non voglio passare il messaggio che non dobbiamo agire in maniera rapida dobbiamo agire in maniera rapida ma facendo le cose giuste perché iniziando un processo di rimedio in maniera estremamente rapida ci esponiamo a maggiori rischi anche perché ad esempio l'attaccante una volta identificate le nostre azioni, facciamo un esempio, abbiamo avuto la fortuna di identificare un attacco verosimilmente ransomware prima che il malware che cifra venga effettivamente rilasciato. A quel punto noi di corsa, visto che normalmente questi ransomware vengono rilasciati attraverso sistemi di gestione che usano i nostri tecnici, andiamo e li andiamo a ripristinare immediatamente. A quel punto l'attaccante si rende conto che qualcosa è cambiato e invece magari di portare fino in fondo l'attacco che voleva fare, tira fuori il minimo di informazioni che gli servono per chiederci il riscatto e a quel punto ci sgancia il ransomware che va a cifrarci la cosa e a creare l'impatto poi sulla nostra rete. Altro problema è andare a ripristinare sistemi, ogni rete in realtà è composta da, anche la più semplice, da numerosissimi oggetti che spesso si incastrano fra di loro in maniera estremamente precisa a livello di tempi e a livello di database, di strutture dati. Andare a ripristinare un qualcosa senza conoscere completamente quello che c'è intorno spesso in realtà ci comporta dei problemi tecnici imprevisti che durante un attacco e la gestione di un incidente dove abbiamo già altri problemi vanno a sovrapporsi e ci rallentano nelle attività e ci creano ulteriori difficoltà da risolvere. In più possiamo anche andare a distruggere informazioni essenziali come ad esempio log di sistema o artefatti che invece sono fondamentali per capire quali sono le attività successive. Un'altra cosa, non bisogna fare gli struzzi, cioè cercare di nascondere o di minimizzare un incidente normalmente comunque può creare dei danni maggiori, sia da un punto di vista prettamente mediatico che può essere di interesse o meno, sia da un punto di vista realmente operativo perché in particolare la dirigenza di un'organizzazione deve conoscere lo stato della situazione in maniera chiara e specifica perché altrimenti potrebbe non mettere a disposizione dei responder le risorse necessarie per risolvere realmente il problema, ma potrebbe comunque considerarlo un problema tecnico piuttosto che un qualcosa di non importante e quindi non dedicarci l'attenzione che un incidente informatico di qualsiasi tipo necessita. In più andare a segnalare l'incidente è una cosa fondamentale da fare, invito veramente tutti a utilizzare il sito dell'Oxirt Italia disponibile a www.xirt.gov.it col modulo incidente ad utilizzarlo perché segnalare un incidente agli organi premosti, l'Oxirt Italia, la Polizia Postale, il Garante e tutti gli altri organi premosti, vi consente non solo come abbiamo visto precedente di evitare eventuali regimi sanzionatori o problemi di altro tipo, ma in particolare vi consente di ottenere supporto sia da un punto di vista operativo, sia da un punto di vista anche di, non tutti, non siamo tutti abituati a gestire incidenti informatici, quindi anche da un punto di vista della comunicazione, cosa posso dire e cosa non posso dire durante un incidente informatico? Se un incidente informatico comporta comunque l'intervento della magistratura, chiaramente ci saranno alcune cose che non potrò andare a dire. Come faccio a capire chi è la persona giusta che mi può indicare questa cosa? sono i colleghi di Kripic che fanno questo di mestiere e fondamentalmente sono le persone a cui segnalate che c'è un problema e che vi dicono e vi supportano da questo punto di vista. Noi come XIRT nazionale raccogliamo tutte le segnalazioni, con queste segnalazioni che cosa possiamo farci? Intanto supportiamo in questo momento anche con limitate capacità per una questione prettamente di numeri perché chiaramente l'agenzia è nata da non tantissimo tempo e chiaramente al momento ha una forza numerica non sufficiente a rispondere a tutte le emergenze o più che altro agli incidenti nazionali però di sicuro avrete un supporto rispetto a tutto quello che noi sappiamo e soprattutto tutti gli altri soggetti nazionali che potrebbero trovarsi nelle vostre stesse condizioni o nelle condizioni di chi viene colpito in un attacco informatico potrebbe essere avvisato delle metodologie, delle tecniche, degli indicatori di quello che potrebbe essergli utile per evitare di essere vittima a loro volta di un attacco similare o dello stesso attore. Infine una comunicazione efficace da un punto di vista sia interno all'organizzazione che esterno all'organizzazione agevola, oltre a prevenire danni d'immagine, agevola anche la risposta del team. In questo senso vi porto un'esperienza che abbiamo avuto ultimamente in cui la comunicazione interna è stata gestita in maniera estremamente efficiente e quindi tutto il team di risposta per quanto le attività di ripristino hanno comportato difficoltà per chi lavorava all'interno dell'organizzazione su cui abbiamo fatto IR, dalla porta che separava la stanza dei responder dal resto dell'organizzazione non è mai entrato qualcuno a dire mi serve che mi riaccendi questo. Questa è una cosa fondamentale. Chi sta lavorando, i team di risposta, hanno già un'enorme pressione addosso perché devono comunque comprendere metodologie e situazioni che a volte sono estremamente semplici, estremamente chiare, a volte sono estremamente complesse. In più devono cercare di evitare che l'attaccante continui a muoversi e porti altro danno e in più devono anche cercare di restituire nel più breve tempo possibile una funzionalità sufficiente per garantire le risorse, le attività dell'organizzazione. Questo comporta una pressione enorme su tempi compressi in cui si lavora tantissimo e se l'organizzazione riesce comunque a proteggere il team con una comunicazione efficace questa cosa ne aumenta estremamente l'efficienza. Una comunicazione efficace verso l'esterno evita anche che si vada a distruggere a dare informazioni che poi vengono continuamente smentite che poi portano altre attività al team di risposta. Andando più specificatamente sulla parte di risposta agli incidenti è fondamentale in caso di incidente eseguire un approccio strutturato. La risposta all'incidente informatico non si può improvvisare ed è un processo continuo anche quando l'incidente non è in corso. Le attività di preparazione fondamentalmente seguono un flusso che deve essere costante e che ci deve consentire nel momento in cui avviene una detection di avere il massimo livello di prontezza per poter poi andare a rispondere e a fare le successive attività. In particolare nell'attività di preparazione la cosa fondamentale è conoscere il proprio ambiente. Se non abbiamo la conoscenza dei nostri ambienti avremo estrema difficoltà a rispondere a un qualsiasi attacco. La conoscenza deve essere il più estesa possibile quindi vanno mantenuti aggiornati i cataloghi di tutti gli asset che gestiamo vanno categorizzati tutti i sistemi e i dati in base a che cosa servono e a che criticità hanno perché questo poi ci aiuterà nella definizione successivamente degli attività di ripristino per andare a priorizzare quali sono i servizi che devo tirare su prima comprendendo anche quelli che servono a farli funzionare perché spesso ci concentriamo su un servizio che è quello che usiamo normalmente ma in realtà i dati che lo fanno funzionare si trovano da un'altra parte che non abbiamo considerato e che magari non abbiamo backupato perché era un qualcosa di molto lo consideravamo un sistema residuale è fondamentale avere chiarissima sempre la lista di chi sono tutti gli stakeholder all'interno delle nostre organizzazioni sia interni che esterni alle organizzazioni quali sono i loro ruoli, quali sono le loro responsabilità e quali sono i loro contatti quando si viene colpiti da un incidente informatico in quel momento psicologicamente si perde lucidità normalmente quindi comunque sia anche attività estremamente semplici come recuperare il contatto di qualcuno un numero di telefono piuttosto che una mail sempre che io possa utilizzare una mail perché a quel punto al momento in cui vengo colpito da un attacco informatico non mi fido più del sistema su cui sto lavorando quindi comunque sia avere la capacità di raggiungere tutte le persone interessate nel quando mi servono è risulta fondamentale e qui voglio fare un inciso vanno inclusi anche tutti i fornitori perché spesso i fornitori non vengono considerati ma rappresentano una parte importante dell'operatività dei nostri sistemi per tutta la fase quando in tempo diciamo di business as usual è fondamentale continuare avere un'attività di formazione continua di tutto il personale sui rischi legati alla sicurezza informatica e in particolare sulle buone pratiche da adottare e anche sulle procedure di risposta agli incidenti informatici siamo tutti abituati a fare le esercitazioni antincendio in cui suona l'allarme e raggiungiamo i punti di raccolta e tutto quanto nelle aziende anche nella pubblica amministrazione comunque sono attività che vengono fatte comunemente quello che normalmente non viene fatto è un esercizio su cosa fare in caso di incidenti informatici e per cosa fare parte dal identifico una mail sospetta che non mi piace che mi porta a sospettare di qualcosa devo sapere chi devo chiamare la persona che viene chiamata deve sapere cosa deve farci e con chi ne deve parlare in caso riscontra e identifica qualcosa che non deve esserci insomma la formazione è uno dei punti fondamentali che poi ci vanno a velocizzare tutto il resto dei processi in caso di incidente la prima cosa da fare è attivare il team di risposta questo team di risposta deve essere costituito nel più breve tempo possibile e a questo team di risposta devono partecipare tutti gli attori interni e esterni all'organizzazione con capacità tecnica con capacità decisionale con capacità amministrativa con capacità legale perché la gestione di un incidente informatico soprattutto in caso l'incidente sia estremamente critico è un'attività che va seguita da un punto di vista a 360 gradi perché potrebbe comportare la necessità di acquisto di strumenti che mi servono per ripristinare qualcosa potrebbe sicuramente comporta una serie di obblighi legali per cui il team deve necessariamente il team legale deve essere presente sicuramente c'è la necessità che il livello decisionale dia la direzione di quello che è quali sono gli obiettivi i tempi cose accettabili o meno anche nella parte tecnica che magari propone delle soluzioni che possono essere più o meno aggressive da un punto di vista di risposta per la fase di detection e analisi è fondamentale all'interno delle proprie reti ottenere la più profonda visibilità di quello che accade e una volta ottenuta bisogna guardarla perché un'altra delle difficoltà noi possiamo inserire tutta la tecnologia che vogliamo all'interno di una rete possiamo integrarla possiamo avere sistemi di risposta automatica che magari ci proteggono e ci aiutano a proteggere la nostra rete però se non abbiamo la giusta attenzione se questi sistemi se tutte queste queste attività che andiamo a fare poi non sono effettivamente presidiate in realtà scopriremo che avevamo visto che era iniziato un attacco ma a un certo punto ce ne siamo accorti perché il PC ci si è cifrato ok? quindi fondamentalmente bisogna avere personale che comunque segue interno esterno poi comunque ogni organizzazione decide prende la strada che più gli gli si confà però comunque bisogna avere personale che stia allerta soprattutto in periodi di criticità come questo che in realtà non è un periodo che si andrà a concludere con magari la fine della crisi ucraina cioè è uno stato di diciamo di rischio all'interno del mondo cibernetico che fondamentalmente si protrarrà chiaramente negli anni e dovremo abituarci perché comunque tutta l'infrastruttura IT tutta tutta la componente digitale ormai fa estremamente parte delle nostre vite costantemente in quasi tutto quello che facciamo è molto difficile a oggi che qualche attività che noi svolgiamo dietro non abbia una componente digitale è fondamentale avere una baseline di funzionamento di tutti i propri sistemi servizi cioè noi dobbiamo sapere come si comporta normalmente la nostra rete perché è dalle anomalie rispetto al comportamento che spesso andiamo a capire che c'è qualcosa che non va un login di una persona che normalmente fa orario di servizio e mi si mi si log alle 3 di mattina oppure il collega che oggi è seduto a fianco a me domani mi si collega da Mosca o da o da Parigi o da New York a livello diciamo di un sistema magari non troppo evoluto di sicurezza automatica comunque un login quello è esattamente un login valido credenziali valide sul sistema valido però se il collega oggi è qui a meno che non ha una trasferta di cui so qualcosa se mi si collega da un'altra parte potrei buttare una VPN ci sono mille motivi per cui potrebbe essere lecito però fondamentalmente devo andare a scavare e a capire che cosa è successo Dottor Caminale devo chiedere se arriviamo alla conclusione perché forse c'è anche ancora qualche domanda guardi in 5 minuti vado velocissimo 5 minuti siamo già molto molto oltre il tempo massimo allora ne prendo due grazie grazie mille fondamentalmente le fasi successive sono di contenimento rilegazione e recovery fondamentalmente quando succede qualcosa bisogna partire con un ciclo di osservazioni di cosa fa l'attaccante capire come reagire decidere farlo e ricominciare ad osservare in maniera tale da contrastare e ridurre la sua capacità di movimento fino a che una volta che non è più in grado di muoversi a quel punto andremo a eliminare tutta la sua presenza sulla rete ripristinando servizi e tutto tutto quanto insomma fondamentale e qui mi prendo un minuto e mezzo se me lo consentite bisogna imparare ogni incidente è un'estrema fonte di possibilità per imparare è chiaro quando si viene colpiti la prima cosa è lo sgomento però la gestione di un incidente è una di quelle occasioni in cui cresce a dismisura la capacità delle persone con cui lavoriamo e la consapevolezza quindi mentre gestiamo un incidente dobbiamo assolutamente una volta finito ma anche mentre lo stiamo facendo valutare l'efficacia di tutto quello che abbiamo fatto identificare a quel punto gap capacitivi di processo che hanno permesso l'incidente o lo hanno facilitato e avviare un processo di revisione che deve essere continuo e ci deve portare a non ripetere gli errori mi fermo qui al volo sì mi fermo assolutamente qui vi voglio dare se posso un ultimo spunto visto nei report che è una delle principali minacce che vengono registrate anche da noi in realtà è l'utilizzo di malware all'interno delle reti spesso però questo è la fine dell'attacco in questa fase l'invito è a proteggere le credenziali in particolare quelle amministrative nella maniera più importante possibile le credenziali amministrative sono quelle che consentono all'attaccante poi di scomparire anche dai nostri sistemi di sicurezza quindi la protezione delle credenziali degli utenti in primis e in particolare degli amministratori è uno dei concetti fondamentali perché in tanti incidenti che abbiamo visto nell'ultimo periodo è quella la modalità con cui in realtà riescono a colpire le nostre reti magari le comprano in qualche sito in particolare gli attori ransomware oggi sono delle vere e proprie aziende che hanno un sacco di capacità quindi proteggete le credenziali grazie mille scusate mi sono dilungato un po' oltre grazie grazie il tema era sicuramente di interesse tra l'altro grazie anche delle slide grazie anche alle slide prima del presidente del cruzit ci sono arrivate già molte richieste di mettere a disposizione il materiale quindi vi chiederemo poi l'autorizzazione se condividete di poter poi lasciare queste testimonianze che sono sicuramente utili sia come dati sia come istruzioni erano arrivate diverse domande io ho visto che l'onorevole Ghiglia ha già risposto prontamente ad alcune osservazioni c'era però ancora una domanda forse di Raul proprio sulla parte del dottor Caramia velocissimamente così poi vediamo siamo tutti persone professionisti esperti e quindi non è che dobbiamo sviscerare oggi ma io mi chiedo una cosa visto che quando è stata creata l'agenzia tra il mandato e il potere c'è di fare delle sanzioni il che è giustissimo se no qua continua a non cambiare niente in sto paese e visto che ogni volta che ci sono incidenti catastrofici penso alla regione Lazio penso alla sanità penso a tutte le cose che alla fine sono pubbliche i fornitori che dovevano difendere sono sempre gli stessi scusate è tutto pubblico non c'è trasparenza su avete speso quanto per cosa ma la mia domanda è l'agenzia magari non ora che siamo agli inizi c'è mancanza di risorse ma arriverà a regime a dire cavolo hanno bucato il CSI non accadrà mai il fornitore era Pino Luigi e Mario e sono sempre quelli avevano un contratto dove assicuravano la sicurezza non si può assicurare però con contratti fatti bene a casa mia tu fornitore io ho un danno perché il fornitore sbaglia il fornitore paga arriverremo mai a questa cosa che a me sembra abbastanza semplice tutto sommato è logica e non difficile da capire Roberto allora sì uno dei servizi dell'agenzia l'agenzia vi ho parlato solo di operazioni ha altri sei servizi uno dei servizi dell'agenzia è proprio la componente autorità e sanzioni una volta che questa componente sarà attiva chiaramente il primo focus sarà legato a tutto ciò che è previsto già oggi da un punto di vista legislativo quindi perimetro di sicurezza nazionale cibernetica direttiva NIS e tutto il resto al momento l'agenzia sta iniziando a valutare probabilmente non non è non sarà un percorso che prenderà tantissimo tempo ma un po' di tempo ci vorrà degli strumenti di certificazione e validazione anche attraverso il CVCN quindi il centro di validazione sia per quanto riguarda e nasce per hardware software però diciamo lo stesso modello ci saranno sono stiamo valutando la creazione di degli schemi di valutazione anche per i servizi in maniera tale poi da da avere se l'ambito legislativo ce lo consentirà anche quel tipo di possibilità e stiamo valutando sia in carico l'amico Franco Guida giusto? Immagino questa parte qua perché è 30 anni che Franco da fondazione Ugo Bordoni poi ha creato tutto quello che sta andando i laboratori eccetera grazie per la risposta grazie grazie ancora a tutti vorrei veramente ringraziare innanzitutto tutti i partecipanti perché sono rimasti quasi tutti abbiamo avuto un bassissimo tasso di defezione quindi vi ringrazio ovviamente perché avete saputo reggere sicuramente queste due ore un quarto di approfondimento ma soprattutto un grazie ai relatori che ci hanno portato degli elementi sui quali riflettere e soprattutto ci hanno dato dell'informazione dei dati che penso che siano utilissimi quindi grazie ancora all'onorevole Ghiglia grazie al presidente del Clusite Gabriele Fagioli grazie al dottor Caramia e io vi lascio con le conclusioni del presidente ricordandovi che questo è l'inizio di un nuovo ciclo quindi avremo ancora tantissimi appuntamenti da vedere insieme grazie ancora a tutti veramente per la partecipazione prego grazie Enzo grazie a tutti due solo due parole proprio di commiato ringrazio particolarmente perché tutti i relatori hanno cercato di umanizzare un po' questo tema oggi e proprio io cerco sempre di cogliere il fil rouge di tutte le relazioni veramente poi bellissima l'inizio cioè la protezione parliamo d'orinnanzi di protezione dei dati personali mi raccomando Enzo non più di parole astratte perché poi in effetti come dicevo all'inizio siamo noi e sono i nostri comportamenti che in qualche modo determineranno purtroppo la mala gestio o la buona gestio certamente perché si è parlato anche di resilienza si è parlato di resistenza dico io certamente anche il virtuosismo è contagioso quindi forse sta a noi fare usare le risorse e la volontà per non per fare il male ovviamente ma per orientarci orientarci verso il bene e in fondo questo è un po' il segreto della vita quello di abituarci a essere virtuosi in modo tale da non sbagliare questo cercheremo ovviamente di farlo in tutto questo anno grazie ai nostri a coloro che sono con noi nella preparazione di questo gli enti che sono con noi nella preparazione di questo webinar che ci stanno ci affiancano e ci stanno sempre molto vicino ai nostri consorziati che sono molto essere in molti oggi siamo veramente tantissimi c'è molto entusiasmo quindi questo è un buon segno bene vi auguro buon proseguimento di giornata e buon lavoro a tutti e grazie ancora a tutti grazie a tutti arrivederci grazie a voi arrivederci arrivederci